Siamo qui con la maestra, Julie, della Julie Ballet per l'evento più importante dell'anno, ma non solo, è anche uno spettacolo per San Benedetto, uno spettacolo di danza che si intitola L'amore è. Parlaci un attimo di questo spettacolo. Buonasera a tutti, questa sera attraverso la danza vi faremo capire tutte le sfaccettature dell'amore, a partire dall'amore puro della mamma per un figlio o di un papà per la figlia, l'amore tormentato, l'amore storico, l'amore infinito e spero che entreremo nei vostri cuori perché noi abbiamo lavorato tanto. È una grande soddisfazione per te ma soprattutto per le tue allieve. Assolutamente sì, siamo tutte prontissime e non vediamo l'ora di entrare in azione. Grazie. Un saluto. Grazie. Grazie. Grazie.